Buonasera a tutti ragazzi Chievo Pordenone terminata a 0-3 per il Chievo Bene, abbiamo perso questa partita, piccola premessa Come si fa a giocare di martedì alle 7 di pomeriggio? Come si fa a giocare di martedì alle 7 di pomeriggio? Si può giocare di 7 di pomeriggio alla sera, non si può giocare più tardi? No, alle 7 Va bene, Pordenone perde in casa del Chievo Verona 3-0 Meritatamente, naturalmente un rispetto netto 3-0 Partiamo anche bene Partiamo bene, un contropiede inclamoroso, non sappiamo fare gol Il Chievo piano piano esce sempre di più Più o meno a metà del primo tempo trovo un grandissimo gol con Ciciretti Grandissimo gol, da tre quarti Che il pallone copre una traiettoria strana che manda fuorigioco per Izan Non riesce a parare, gol del Chievo Tre minuti dopo, azione, splendida del Chievo 1-2, tatà in area di rigore Lasciato un libro al giocatore del Chievo Segna 2-0 Chiusa la partita Basta Il Chievo ci ha dimostrato come dovrebbe giocare il Pordenone sempre Ci ha dimostrato oggi il Chievo come dovrebbe fare sempre il Pordenone Dovrebbe fare sempre così il Pordenone È saputo difendersi Perché ha saputo difendersi È saputo fare gol e chiudere anche le partite Perché non è che il Chievo abbia fatto molto di più del Pordenone In generale come occasioni Siamo lì come tiri Sennò anzi Magari il Pordenone ne ha fatti molto di più Perché nel tutto il secondo tempo Prima parte del secondo tempo Il Pordenone ne ha avuti le occasioni per andare Per trovare il gol Per esempio Morra ha avuto un'occasione clamorosa Ma vabbè anche Ciurri ha fatto dei tiri a distanza Anche Camporese in qualche occasione Sul calcio piazzato Insomma Ci sono state le occasioni Perché il Pordenone nel secondo tempo è entrato Con la voglia di portare il risultato sul 2-1 Assolutamente almeno Provare a riaprire la partita E questo non va detto nulla contro il Pordenone Però non trova il gol Sapete perché? Perché vi ricordate questo Questo è il Pordenone come era inizio anno Manca adesso qualcuno Ah uno a caso Questo qui Uno a caso Manca uno a caso Uh Ah ma guarda a caso è di O Eh 10 gol Cioè non abbiamo attaccanti noi eh Perché non mi potete dire che Morra può sostituire di O Non può Cioè sono giocatori completamente diversi Noi non abbiamo un bomber Non abbiamo uno che la butta dentro E questo è il problema del Pordenone Non c'è qualcuno che la butta dentro Perché Ciurri è fortissimo Ma non è mai stato uno che segna tanto Beh Adesso poi Che abbiamo fuori I butti C'è Muselig Non so cosa cavolo abbia Anche lui E il problema del Pordenone è questo Perché il Chievo Questa partita Il Chievo non è che l'abbia dominata Nel senso Cioè è stato molto bravo Secondo me ha fatto una partita Che il Pordenone dovrebbe fare così Dovrebbe prendere esempio Il Chievo in un attimo Tre passaggi Velocissimi Rasaterra arrivava sotto Il generale del Pordenone Infatti così anche Il gol del 3-0 È stato tutta una serie di rimpalli È stato anche un po' fortunato il Chievo A fare il gol del 3-0 Però in generale si è Dato in vantaggio Ha consolidato il vantaggio con un doppio gol Ha saputo difendersi bene dal Pordenone In maniera ordinata E ha portato a casa Una partita Senza mai Soffrire in maniera clamorosa Ha portato a casa Tre punti Ha avuto il possesso palla Il Chievo assolutamente Questo non lo posso mettere in dubbio Però ha gestito molto bene la gara E il Pordenone secondo me Dovrebbe prendere spunto Da una squadra come il Chievo Non è un gioco bellissimo Però Quattro passaggi Rimano in area di rigore Poi se non chiudersi bene Se non fare gol Sono cinici Il Pordenone non è niente Tutto ciò adesso Nulla Non è una bella Un buon risultato Vabbè Perde 3-0 Non è un buon risultato Però Insomma Dobbiamo cambiare assolutamente Fin dalla prossima partita Perché Cioè Non si può Non si può andare avanti così È un periodo veramente brutto Ci sono tantissime Tantissime assenze Però Questo non è mai stato un alibi Fino adesso Fino adesso il Pordenone Anche con molta assenza Io infatti non ho mai parlato Tanto nei video Ma perché il Pordenone È sempre uscito a cavarsene È uscito sempre A fare delle buone prestazioni Anche con molte assenze Quindi non può essere un alibi adesso Il Pordenone Ha un momento di crisi Ora come ora Speriamo che finisca il prima possibile Secondo me il Chievo È una squadra Di cui il Pordenone potrebbe Rivedersi Potrebbe prendere spunto Ecco Buona serata a tutti ragazzi Speriamo che Nella prossima partita Vagino meglio Insomma Ciao